Oggi andrò a preparare il brasato nella slow cooker, la slow cooker è perfetta per questo genere di preparazioni perché richiedono lunghe cotture e basse temperature. Prima di andare alla ricetta faccio una premessa sul tipo di carne da acquistare, l'ideale è comprare il cappello del prete, vanno invece evitati tutti quei tagli di carne troppo magri come ad esempio il girello che spesso si trovano nei banchi del supermercato in vendita come brasato. In realtà se noi utilizziamo carni magre la carne risulterà secca e stopposa. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!